Mamma mia che noia, non ce la faccio più Allora ragazzi, io vi volevo dire che io sono in quarantena già da parecchio tempo cioè dal sabato 22 febbraio, quindi ormai da tre settimane perché anche se il coronavirus tre settimane fa non era arrivato ancora al sud comunque i miei genitori non volevano assolutamente rischiare e quindi era meglio rimanere a casa perché visto che il coronavirus può avere un'incubazione di addirittura ben due settimane circa ben due settimane non sai mai chi potresti incontrare che sta per avere il coronavirus quindi te lo può mischiare anche se c'è l'incubazione e poi anche dopo l'incubazione ci sono certe persone che non se ne accorgono proprio di avere il coronavirus quindi non sai mai chi può averlo quindi ragazzi dobbiamo resistere lo so che è difficile, è noioso rimanere chiusi in casa ma facciamo il possibile e comunque dobbiamo combattere questo virus restando a casa adesso cominciamo con il video dove vi do dei consigli per scacciare la noia mamma mia che noia non ce la faccio più mamma mia che noia non ce la faccio più nooo io così impazzisco nooo io così impazzisco nooo io così impazzisco Mamma mia che è noia, non c'è lo faccio più. Uffa. Oh, fuck. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Vi lascerò il link di quel video qui sotto, quindi una linka box. E comunque ci vediamo nel prossimo video. Saluta. Ciao. Ciao, ciao.